Un getto continuo d'acqua fuoriesce dal vano contatorio ormai da mesi senza che nessuno se ne preoccupi. Il guasto riguarda una conduttura di via Marrosso ad Ostia nei pressi del Civico 7. I condomini hanno segnalato più volte il problema e anche l'amministratrice della palazzina ha interessato direttamente a CEA senza tuttavia ottenere risultati apprezzabili. Nel frattempo il marciapiede reso viscido dalla mucillaggine comincia a rappresentare un'insidia per i pedoni soprattutto per i più anziani. In caso di infortunio dovuto a caduta risponderne sono sia l'affidatario del servizio idrico se non ha adempiuto ai propri obblighi manutentivi sia l'ente proprietario della strada se non ha agito tempestivamente. La rete idrica di Roma è molto vecchia risale a 30 50 anni fa e a causa di rotture a lacci abusivi disperde circa il 40 per cento dell'acqua in circolazione. Intervenire tempestivamente in caso di guasti potrebbe essere un buon inizio. Nel decimo municipio poi si sta delineando una vera e propria emergenza con decine di perdite praticamente in tutti i quartieri. Solo la CEA sembra non cogliere la portata del fenomeno.